Un tempo propizio per rinnovare fede, speranza e carità è quello che delinea il messaggio di Francesco per l'imminente quaresima presentato oggi in Sala Stampa Vaticana dal titolo Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, citazione dal Vangelo di Matteo. Condizioni fondamentali per questo cammino di conversione, ricorda il Papa, sono il digiuno, la preghiera e l'elemosina, come le presenta Gesù nella sua predicazione. Siamo chiamati a scegliere il digiuno per riscoprire i doni di Dio e comprendere la nostra realtà di creature, aprendoci alla verità rivelata dalla parola. Ad accogliere la provocazione della speranza in questo tempo in cui tutto sembra incerto e fragile, nella preghiera, nel sacramento e la riconciliazione, nella cura della fraternità, con i nostri simili e con la creazione, troppo spesso maltrattata. E infine sollecita Francesco a praticare quella carità che si rallegra nel veder crescere l'altro. Chi è solo, malato, senza tetto, nel bisogno, ma pure chi è nell'angoscia o nella sofferenza a causa della pandemia, condividendo quel poco che, se dato con amore, non finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e di felicità.